ore 7 un minuto di lunedì 6 maggio 2024 benvenuti alla rassegna stampa di fano tv siamo pronti a leggere i giornali con le notizie del weekend di quello che è stato ieri una bellissima giornata quasi estiva per quanto riguarda la temperatura ma ricca ed emozionante per quanto riguarda gli avvenimenti in modo particolare di sport e comunque come sempre procediamo attraverso l'almanacco del giorno per vedere chi si festeggia oggi ed eccolo il santo è San Pietro Nolasco fondatore dei mercendari i mercendari erano i devoti alla Vergine Maria della Mercede la Vergine che veniva invocata per la liberazione degli schiavi siamo nel XIII secolo i mori avevano invaso la Spagna c'erano i pirati poi che facevano le incursioni in tutte le coste italiane ed europee per rapire la popolazione e portare la schiava nel nord Africa ebbene Pietro Nolasco fondò questa comunità per accogliere fondi per riscattare gli schiavi e veramente ne liberò tantissimi pagando però per la loro liberazione e fu quindi veramente un punto di riferimento tant'è che anche i re di Francia andarono a trovarlo e furono veramente emozionati per quello che loro insegnava questo è San Pietro Nolasco vediamo ora le previsioni del tempo e vediamo che c'è il sole c'è il sole in tutta la regione Marche anche se la grafica presenta qualche nuvoletta è una giornata questa all'insegna della stabilità sul tutta la regione ma con una nuvolosità irregolare le temperature sono aumentate rispetto alla settimana scorsa una minima di 16 gradi una temperatura media massima di 23 ma con punte fino anche a 26 e a 27 i venti sulle coste spireranno con una tensione media da sud-este mentre da sud-ovest nell'entroterra il mare è leggermente mosso il sole è sorto alle 5.53 e tramonterà alle 20.14 e con questo procediamo alla rassegna stampa di oggi oggi è lunedì quindi i giornali hanno una edizione non dico ridotta perché insomma le notizie ci sono ma con una fogliazione un po' particolare e io oggi direi di partire proprio con lo sport perché le notizie di sport sono veramente tante e vediamo subito sul Corriere Adriatico come la visse fa le prove in vista dei play-out ieri c'è stato un test con la primavera Obi potrebbe rientrare contro la Re Canatese che è la prossima partita la partita di domenica prossima la sfida infinita con i giallorossi campionato, coppa e ora veramente gli spareggi perché Re Canatese è un po' una squadra tipo una squadra che insomma la visse incontra spesso e conosce bene anche i giocatori e le sue potenzialità appello alla Re Canatese venite tutti a sostenerci è l'invito che si fa ai tifosi, alla tifoseria per la prossima partita una partita che vale per i play-out la società carica l'ambiente in vista della partita di andata con la visse il Fano ebbè il Fano invece pensa nel ripescaggio perché è condannata ormai già da settimana scorsa però ieri è chiuso in bellezza se così si può definire con questo termine il campionato che è appena finito ebbene il risultato è stato eclatante ma è un risultato inutile Fano 5 e Real Monterotondo 2 i Granata travolgono il Real Monterotondo lasciando aperta la possibilità di evitare l'eccellenza la cinquina in rimonta permette di posizionare la squadra di Manoni in terza ultima posizione c'è una possibilità di ripescaggio insomma però restare nel campionato con il ripescaggio e senza avere così conquistato i punti in campo insomma non è un gran risultato Urbinati e le scuse e l'accusa un altro ritorno su questa vicenda il capitano dice ci sono state troppe grosse mancanze una stagione imbarazzante fuori dal campo fuori dal campo perché poi tutte le traversie societarie hanno influito così almeno pensano anche i tifosi sulle vicende della società dispiace non esserci salvati ha detto il capitano siamo stati aiutati solo da questo magnifico pubblico e dalla città e beh insomma il sostegno dei tifosi non è mancato vediamo il fossombrone K.O. a Tivoli ma questo non fa male con la D già in tasca le motivazioni dei laziali fanno la differenza decisivo di Emma ebbene il risultato 1-0 insomma un risultato che in questo momento non procura molti danni al fossombrone vediamo invece la Vigor di Senigallia il derby va alla Samb la Vigor si porta prima in vantaggio 3-1 poi 20 minuti gli ospiti di Lagono segnando ben 4 reti infatti il risultato è tutto un susseguirsi di gol la Vigor 3 reti la Samb 5 reti quindi veramente è stata una partita molto molto esaltante il Rosso a Pesaresi il Rosso a Pesaresi manda in cortocircuito i padroni di casa che salutano i playoff con rammarico ed ora vediamo vediamo invece quello che è accaduto a Urbino la finale dei playoff sarà tra Castelfidardo e Urbino Chiesa Nuova e Montefano vanno a Coppò domenica si gioca in casa dei Biancoverdi per andare alla fase nazionale il risultato per quanto riguarda Castelfidardo è Castelfidardo 1 Chiesa Nuova 0 però Castelfidardo giocava fuori casa ed ora diamo un'occhiata invece ad altri sport e vediamo come la VL siamo al basket la VL purtroppo retrocede così come è retrocessa il fano calcio Triste Venezia rievoca un po' un titolo romanzesco un titolo da film Triste Venezia VL sconfitta retrocede in A2 la Carpegna Prosciutto gioca un tempo alla pari poi solo Reier Cenciarini e Visconti escono dal campo con le lacrime agli occhi fa sempre male quando si perde nonostante tutto l'impegno messo un campionato un campionato in modo particolare di eccellenza vediamo ancora invece un bellissimo risultato ottenuto nel volley a Fano la Smart System ora puoi giocarti la chance promozione ebbene la Smart System in un Salvatore Allende pieno di pubblico un pubblico entusiasta un pubblico battagliero che ha fatto sentire il suo calore alla squadra si è imposta sul treviso sul belluno scusate sul belluno per 3 a 1 Smart System ora puoi giocarti la chance promozione Fano sconfinge Belluno nella gara decisiva in finale c'è Sandona e sarà questa la gara più attesa quella decisiva che potrà permettere anche alla Smart System se supererà questo scoglio di salire di categoria vediamo ancora no Sport in questo caso è finito ora possiamo parlare delle altre notizie a partire dalla pagina di Fano dove abbiamo una notizia di cronaca piuttosto inquietante sale sul tetto di un edificio in disuso un ragazzino precipita un volo di 4 metri ed è stato ricoverato in piuttosto gravi condizioni all'ospedale di Torrette di Ancona è successo è successo a Torrette è successo a Torrette è caduto da un edificio in disuso un edificio abbandonato giocava con un suo compagno è salito sul tetto si tratta di un ragazzo fanese di 16 anni ed è precipitato di sotto con un volo di 4 metri e ha riportato purtroppo diverse fratture scomposte ed è stato trasportato appunto agli ospedali riuniti di Ancona dove è ricoverato nel reparto di rianimazione per fortuna con lui c'era un coetaneo un ragazzo che ha dato subito l'allarme e quindi sono intervenuti subito i soccorsi sono intervenuti anche i carabinieri e il ragazzo era ancora cosciente quando è stato soccorso e quindi trasportato di graffretta all'ospedale di Ancona il sedicenne aveva così tentato un gioco un po' pericoloso ma di solito dicono anche i residenti che negli edifici abbandonati di Torrette molti ragazzi frequentano queste aree in disuso queste aree che sono in pericolose prima o poi doveva capitare quello che è capitato vediamo anche che la decisione di ariempicarsi sul tetto di un edificio disabitato da tempo è stata un'imprudenza che ha comportato conseguente serie vediamo invece una bella notizia per quanto riguarda le famiglie che non si trovano in buone condizioni economiche l'amministrazione comunale ha pubblicato un bando per coloro che hanno un'ise non superiore ai 14.000 euro annui ebbene questi non pagheranno per tutto il 2024 la Tari la tassa sui rifiuti e sono 504 le famiglie che hanno aderito a questo bando un bando pubblicato dall'assessorato ai servizi finanziari ne parla l'assessore Cucchiarini oggi insieme alla dirigente dello stesso settore Daniela Mantoni sono state 504 le famiglie che hanno risposto al bando per la concessione di agevolazioni per il versamento della Tari e se tutte quante verranno riscontrate in regola con i parametri del bando ovvero hanno questa ise non superiore e poi insomma sono residenti nel comune e altre cose ebbene non pagheranno nessuna tasca sono tre le scadenze che una giugno un'ottobre e una al prossimo febbraio che verranno annullate d'ufficio quindi queste non riceveranno nemmeno i bollettini ed ora parliamo invece della regina delle gare che si svolgono nel mese di maggio della Colle Marathon una bellissima gara sportiva ma anche una bellissima gara da vedere come spettacolo perché ieri a Fano veramente si sono radunate tantissime persone in modo particolare al Pincio dove era situato l'arrivo di questa stupenda gara che è partita dai colli dell'entroterra Barchi San Costanzo Mondolfo e via dicendo un bellissimo paesaggio un bellissimo contenitore per tante tante persone oltre mille ne hanno frequentato con diverse distanze questa bellissima iniziativa con le Marathon che spettacolo per i vent'anni una giornata perfetta entusiasta il vincitore Buccilli un percorso duro e stimolante ha dichiarato ottimi risultati per Quattrini e Boinego ovviamente il giornale mette in evidenza ed è giusto che sia così i vincitori perché la Maratona non è una gara semplice è una gara in cui si soffre una gara in cui si lotta si lotta con se stessi con la stanchezza con il dolore ma anche si gode di un'esperienza unica che poi rimane dentro la prima volta di Carmine Buccilli e la quinta di Maria Vraici nella ventesima con le Marathon e dobbiamo dire che un italiano che stavolta è riuscito a imporsi sui nordafricani che di solito sono i vincitori nordafricani ma anche africani sono i vincitori di questa splendida gara imprese in solitaria quella dei due vincitori Maria Vraici non è nuova a queste imprese e anche Carmine Buccilli è un maratoneta già affermato e quindi un bellissimo un bellissimo risultato vediamo anche come il resto del Carlino parla di questa bellissima impresa vediamo se trovo l'articolo ah 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 vediamo ah qua nella zona nell'insetto sportivo nell'insetto sportivo vediamo subito di trovare la Colle Marathon eccola qua la Colle Marathon torna colore azzurro Buccilli Frantuma lo strappatoere africano l'atleta Frusinate domina battendo Lucchese e il marocchino Zituni tra le donne e la croata Maria Vraici ritrova la vittoria ebbene si parla di sport ma si parla anche di coloro che hanno fatto semplicemente una camminata e sono veramente tanti tanti quelli che hanno fatto una Colle Marathon camminando e non correndo con le proprie gambe cavalcata solitaria anche per la trionfatrice femminile che a differenza di Buccilli conosceva già bene la Colle Marathon per averla vinta quattro volte in passato e si parla di Maria Vraici mentre nella mezza maratona tra gli uomini un successo di Gianmarco Bertini del Fano Corre che ha chiuso in un'ora 16 minuti e 9 secondi e poi nella 10 chilometri primo posto maschile per Luca Iannuzzo della Podistica Torino davanti ad Andrea Fiorani del Fano Corre Fano Corre è stata veramente una società che si è imposta e si è fatta notare comunque il colore il colore della Colle Marathon bisogna che ne parli perché il colore è stato molto bello al Pincio tante persone sono mescolate con i tifosi con i visitatori con i turisti che hanno assistito alle ultime fasi di questa gara che poi ha attraversato anche la città di Fano percorrendo la passeggiata del Lisippo venendo dal fiume Metauro dalle colline appunto dell'entroterra in una nota tra l'azzurro del cielo l'azzurro del mare e il calore del pubblico per questa bella gara ma ora basta parlare di sport riprendiamo le notizie e parliamo del Lisippo ebbene Lisippo tiene ancora a banco per questa proposta che è una proposta originale che proviene dal vice sindaco Cristian Fanesi il quale affrontando il discorso dove porre il Lisippo propone una sede così diversa dagli altri quella del Museo della Marineria e la sua indicazione non è così campata per aria perché in fin dei conti l'isippo è stato trovato dai pescatori fanesi pescatori fanesi che in passato hanno trovato in Adriatico tanti tanti tesori mi riferisco alle anfore mi riferisco al basellame mi riferisco anche ad alcune armi e appunto il giornale menzione è anche un cannoncino che è stato trovato non molto tempo fa e costudito per tanto tempo nel laboratorio di biologia marina di Fano un cannoncino del 1600 insomma l'Adriatico è ancora ricco di tanti reperti che si sono sedimentati con la storia sul fondo del mare e chissà che non si ritrovino anche i piedi del Lisippo così come si vagheggia da tanto tanto tempo comunque l'idea di utilizzare il museo della marineria all'asilo Manfrini per riporvi il Lisippo è giustificata anche dall'appartenenza soprattutto da chi l'ha trovato il Lisippo che è stato un equipaggio di pescatori passiamo ora all'entroterra Volpe accelera e presenta i 12 candidati in lista siamo a San Costanzo dove si parla della candidatura di Milena Volpe che ha ufficializzato i candidati consiglieri comunali di Uniti per San Costanzo saranno presentati sabato alle 17 nella sala consigliare questo in vista delle elezioni dell'8 e 9 giugno prossimo a San Lorenzo in campo invece si è dato il via al restyling dello storico lavatoio il progetto prevede un intervento di circa 100.000 euro ed è un reperto storico che deve essere salvato invece vediamo anche il commento di una signora di Mondolfo Simona Di Leo che dice va bene mi sono risparmiata una visita non certo agevole a Santa Croce di Fano grazie alla Guardia Medica che per fortuna era disponibile a Mondolfo per ribadire come il servizio di Guardia Medica soprattutto nei comuni dell'entroterra è importante e quindi passiamo alla pagina di Pesaro dove l'apertura è dedicata è dedicata eccola qua è dedicata a tutte le iniziative che si svolgeranno nel centro storico in occasione appunto ancora della stagione di Pesaro capitale nazionale della cultura per non concentrarle tutte nella zona mare e quindi ne beneficeranno anche i commercianti i negozi del centro della città murata tariffe e costi alle stelle in centro portiamo eventi ma il comune però ci deve sostenere perché ci sono veramente dei costi che riguardano le spese per la SIAE la logistica e la sicurezza di queste iniziative vediamo un altro articolo sulla pagina di Pesaro prima di passare al resto del Carlino un appello lanciato dall'architetto Leoni innesca un dibattito sul bosco che cammina questa iniziativa del consigliere comunale Demme Michele Gambini che ha curato e portato avanti il progetto il bosco che cammina che cos'è il bosco che cammina ebbene è una serie di piante su dei basi su dei contenitori che può essere spostato dove si vuole insomma è un bosco che può essere spostato può camminare togliete le piante dalla piazza meglio in piazzale d'annunzio è quello che dice l'architetto Leoni ed ora passiamo al resto del Carlino vediamo gli articoli che riguardano Fano sono eccole qua vediamo vediamo un attimo no questo non è vediamo un attimo di Fano mi sembra che proprio oggi ci sia poca cosa sì c'è questo articolo qui a fondo pagina che riguarda il 5 stelle si parla della campagna elettorale attacco di Ruggeri al candidato sindaco Ser Filippi aveva promesso l'ospis ma se n'è dimenticato vi ricordo che cos'è l'ospis semplicemente quella nuova struttura che dovrebbe sorgere al posto oppure doveva essere trasformato in quella che al momento è lì presente ovvero il vecchio ospedaletto di via Tazzoli l'ospedaletto dei bambini che deve essere trasformato in un centro per le cure pediatriche attacco di Ruggeri al candidato sindaco perché la regione si è rimpegnata appunto a realizzare questa nuova struttura però insomma tutto langue trovo sconcertante ha detto Marta Ruggeri che dopo audizioni sul tema con l'associazione Maruzza in commissione sanità in cui tutti i commissari sembravano concordi affinché la regione realizzasse questa struttura e si era già nel 2022 ebbene ancora nulla è stato fatto e quindi sollecita anche il candidato sindaco del centrodestra che è un consigliere regionale Luca Serfilippi appunto a procedere perché altrimenti il tempo passa e purtroppo i bambini hanno bisogno di questa assistenza vediamo le altre notizie che riguardano Pesaro un giovane muore a Vienna si tratta di Xavier Granci trovato senza vita e i genitori non sanno il perché si tratta di un 21enne che era partito da Piobbico da qualche mese alla ricerca del lavoro nella capitale austriaca abitava col fratello Luigi ebbene l'altra sera è stato rinvenuto esanime nelle vicinanze di un ponte però non si sa perché è morto la famiglia ancora non ha saputo le ragioni di questa scomparsa e siamo in conclusione l'ultima notizia che vi segnalo è il parere di Stefano Aguzzi consigliere regionale sull'inchiesta del latte di Trevalli e Aguzzi non crede veramente alla responsabilità dei proprietari di questa azienda e qui termina la nostra rassegna stampa vi do appuntamento come sempre a domani alla stessa ora intanto vi auguro una buona giornata io Grazie a tutti.